Aldo Parisotto è un architetto che naviga tanto armatore di un milius 65 di cui ovviamente ha disegnato gli interni. Il suo studio di architettura che ha fondato insieme al socio Massimo Formentone si occupa di architettura tradizionale e di design. La sua visione sul mondo è molto pragmatica, pratica ed è molto anche legata all'architettura come scienza dedicata all'abitare e alla vita dell'uomo. Aldo sei un architetto con la passione della vela o un velista che fa l'architetto? Sono un architetto con la passione della vela credo di identificarmi meglio così. Cosa significa per te architettura? Architettura significa tutto, è una parola che comprende tutto, voglio dire viviamo in un ambiente dove l'architetto aiuta a migliorare o a peggiorare l'ambiente in cui viviamo, quindi abbiamo una responsabilità enorme in questa terra e quindi diciamo che poi l'architetto ha un'attività che è estremamente ampia e lavora tra la città e il cucchiaio, un po' la famosa frase del cucchiaio della città, quindi siamo responsabili di tutto quello che tocchiamo, dove viviamo, dove ci sediamo, navighiamo. Anche della barca, questa è la tua. Anche delle design con l'architettura navale, perché è un tema molto forte, è diventato anche probabilmente un driver d'acquisto anche esuberante nelle motivazioni ogni tanto, anche se ovviamente il designer sa dare valore aggiunto all'oggetto finale. Come trovi l'ambiente nautico, come trovi il design delle barche? Allora l'ambiente nautico ha subito delle trasformazioni importantissime negli ultimi diciamo 15-20 anni, perché fino a 15-20 anni fa vedevamo delle barche progettate ovviamente da ingegneri navali e da architetti navali e poi gli interni ovviamente avevano un sapore e io guardo con grande attenzione infatti le barche del passato, perché comunque avevano un'identità forte e un sapore incredibile, perché erano puramente dettate alla funzione della navigazione. Poi c'è stato il boom della nautica negli anni 80-90 fino al 2000, dove anche architetti di terra, come così ci chiamano gli architetti giustamente nautici, hanno messo un po' il zampino a contaminare queste architetture. Io mi permetto in punta dei piedi di dare un contributo sulla progettazione delle barche, perché lo faccio intanto per passione, però perché navigo, navigo e conosco i temi del navigare sulle imbarcazioni, perché è un'architettura in movimento. Io ho visto dei progetti dove è palese che probabilmente il progettista non era mai salito in una barca e quindi il risultato secondo me non è... Senza pigli, senza spine, senza tutto. Con spigoli, senza pigli, senza ergonomie. Parliamo ancora un po' di navigazione, tu leggi, un po' leggi, Cortomaltese, cosa ti fa venire in mente? Eh beh, Cortomaltese è un'icona, un mito e mi ricordo i fumetti e sicuramente mi riporta al mare, no? Un grande... E cos'è per te il mare? Cos'è navigare? Beh, per me il mare è tantissimo, è una sfida incredibile. Io ho sempre amato il mare fin da piccolo, perché sono nato e cresciuto in una località di mare stagionalmente. Ho sempre guardato il mare con grande fascino, cioè mi affascinava tutto quello che galleggiava, tutto quello che c'era intorno al mare. Lo temo sempre, e ancora oggi lo temo, perché il mare ha una forza e una potenza che l'uomo non può domare, diciamo. Quindi lo rispetto tantissimo. E quindi fin da piccolo ho avuto questa grande passione, amo il mare, amo nuotare, amo le attività di mare, ho cominciato a far scina, ho dico tutto quello che è l'attività di mare. Poi ho fatto delle scelte, pian pianino ho cominciato ad andare a vela e tutt'oggi non posso fare a meno del mare, anzi è l'unico luogo dove mi isolo da questo mondo caotico e vado a ricaricarmi. Guarda, questo è un altro libro che ho portato, è La storia del sale, Salt, di questo Mark Kurlansky, che ha scritto anche un altro libro sulla storia del merluzzo. Ed è straordinario come due cose così semplici, come il sale e il merluzzo, che hanno alimentato il mondo, si intreccino con la storia della navigazione e con il mare. Anche qui, ancora una volta, la navigazione è civiltà, la nave trasporta cultura, ed è cultura, è una cosa che forse un pochino ci dimentichiamo ogni tanto. Oggi saliamo sulle barche per motivi ludici, invece la navigazione è nata per motivi funzionali, fisiologici, il trasporto, le merci e la scoperta del territorio, perché il mondo è stato scoperto attraverso il mare, grazie nella storia. Perciò c'è una storia legata a tutto quello che è la funzione del mare, del navigare in mare, per motivi ovviamente di ricerca, di trasporto, di commercio. Oggi invece navighiamo molto anche per motivi ludici, sempre di scoperta, perché c'è modo e modo di navigare, di prendere il mare. Ho provato una piccola sensazione simile. Quando arrivai conoscevo la Spagna e Barcellona, non l'avevo mai vista e sono arrivato la prima volta a Barcellona via mare. E ho compreso tutta l'emozione che hai delle città che sono state costruite all'epoca per essere fruita dal mare. Venezia era fruita dal mare, Genova era fruita dal mare, anche dalla terra, ma dal mare, e tutte le città di mare sono fruita. L'emozione di vedere la città attraverso il mare ti dà una sensazione completamente diversa, sembra un'altra cosa. E lì ho capito, ad esempio, quando sono arrivato a Barcellona, al tramonto, c'era la Sagrada Famiglia Illuminata e ho capito la scala di quell'architettura straordinaria di Gaudì e mi ha dato veramente un'emozione che lo ricorderò tutta la vita. Senti, qui siamo a casa tua. La casa per l'architetto, disegnarsi la casa, cosa significa? Eh beh, è un divertimento, posso sperimentare sulla mia pelle, no? A parte che l'operazione è più facile disegnare la casa per se stessi, perché noi realizziamo molti progetti residenziali, di fatti cerchiamo di immedesimarsi molto nella persona, perché io non posso disegnare una casa per Antonio come vivrei io, io devo disegnare la casa per Antonio, per te, quindi devo immedesimarmi nel tuo modo di vivere e devo rispondere alle tue esigenze. Che vale anche per la barca, no? Che vale per ogni oggetto. Per ogni oggetto, perché noi dobbiamo interpretare con la nostra responsabilità e con la nostra conoscenza quello che il committente chiede, quindi disegnare la casa per se stessi diventa anche più facile, poi come architetto mi diverto e dico non posso poi razzolare bene, predicare bene e razzolare male, no? Questa invece è la tua barca, c'è una certa differenza tra i due stili. No, ma infatti, guarda, io quando progetto un ambiente per vivere, anche la barca è un ambiente dove si vive e questa secondo me è la mia terza casa, perché sai io faccio una vita un po' particolare, sono molto itinerante, a parte l'ultimo anno che ci siamo un po' fermati, infatti ho sofferto, non ho visto la barca per un anno, l'ho lasciata a terra perché comunque era complesso l'anno scorso, adesso finalmente ci ritorno. Io vivo tra Milano, Padova e la barca, quindi ho tre case, completamente diverse. La casa di Milano, se la vedi, è una casa in città che ha molta luce, è un po' improntata intorno ai quadri, all'arte, che è l'altra mia passione oltre al mare. La casa che abbiamo appena visto è una casa che ho, diciamo, ereditato dalla famiglia, dal papà, che purtroppo mi ha lasciato qualche anno fa e vivo lì dentro, c'è la storia della nostra famiglia, è un palazzo storico del 1500, è il Milan Animo Cenigo, dove io ho rinterpretato sugli interni, quindi è fortemente legata alla storia. Io progetto e ho un segno contemporaneo, ma mi calo molto nel contesto, quindi se opero in contesti storici vedi cose molto differenti, che sembrano molto differenti, perché rispetto molto il contesto. Qui dove siamo? Qui siamo di fianco al mio studio in uno shooting per True Design, un'azienda che io seguo, sono l'art director da anni, un'azienda bellissima, che è una sfida, è un divertimento fare questo lavoro con loro, sono tre ragazzi giovanissimi, anzi la cosa è che si lega al mare, anche qui c'è un link, te lo racconto. Un ragazzo viene a fare il prodiere in barca mia, Alessandro Maniero, che è giovanissimo e ovviamente conosce, gli dice cosa fai tu nella vita, io faccio l'architetto, io ho un'azienda e produciamo mobili di design. Dopo qualche anno, così che navighiamo insieme, quindi condividiamo questa grande passione, tutt'oggi è una persona cara che naviga con me, sarà ospite questa estate in barca, mi chiama in azienda e mi dice abbiamo una sfida in testa, vuoi partecipare? Cioè noi abbiamo bisogno di un art director. Quattro anni, proviamo a triplicare il nostro fatturato e andiamo avanti, se no ognuno fa un'altra mestiera, io vado in barca, mio fratello fa altre cose e il terzo fratello fa un'altra cosa ancora. La sfida ha funzionato benissimo, l'azienda ha ben più che triplicati fatturati e quindi è una sorpresa incredibile, ci divertiamo a lavorare, stiamo crescendo moltissimo e questo è uno shooting dedicato all'ospitalità che abbiamo realizzato a Milano. A me interessavano questi due shooting, questo credo sia a casa tua a Milano, mi interessa il pozzo di luce che è una cosa che era tipica delle barche d'epoca e che abbiamo forse perso. Come si gestisce la luce? Allora, la luce, hai aperto un tema, si potrebbe parlare due giorni di luce. Allora, la luce in architettura è tutto, è quello che ci fa percepire. La luce è vita, no? Altrimenti non percepirei gli spazi, non percepirei le superfici, non percepirei nulla. Attraverso la luce io riesco a scolpire le architetture, quindi io quando progetto un'architettura il primo, diciamo, materiale che io vado a verificare è il posizionamento attraverso la luce naturale. Quindi se realizziamo una villa, una casa, qualsiasi oggetto di architettura nel territorio, il prima domanda che mi faccio, che dovrebbero fare per fare tutti gli architetti, no? Qual è l'esposizione solare? Cioè, nell'arco dell'anno e nell'arco dei mesi come colpisce la luce? Quindi questo è il primo strumento che mi fa fare delle scelte, delle scelte chiarissime. In questo caso è un interno e quindi quando io riesco a catturare la luce dall'alto, la luce zenitale, è la cosa più bella. Io adoro la luce zenitale perché è una luce morbida, in questo caso, poiché è living, dove io mi diverto a mettere un po' i miei oggetti da arte, le mie piccole cose, le mie sculture africane che sono appassionato, ho una luce che è straordinaria, che non riesco ad avere nella casa a Monseli. E ti faccio una sorpresa, ti faccio una sorpresa, questa è una nave militare ristrutturata dove ritroviamo tutti questi elementi dell'abitare, dal caminetto al pozzo di luce, a però, ed è quello che mi piace, il sentire tutte le strutture della nave. Non puoi sbagliarti, qui sei per forza di una nave. Strutture nudo, bellissima. Questa è un'immagine straordinaria, bravissima, hai tirato fuori un progetto stupendo, è una trasformazione di una nave militare? Sì. Ok, per l'uso così personale di navigare, scoprire… Viene usata come abitazione e diciamo pure tender di una barca da regata d'epoca da parte di un architetto olandese. Bellissimo, lo invidio molto, ottima idea. Era in vendita qualche anno fa, forse è ancora in circolazione. Ah sì, bellissima. No, allora c'ha due o tre cose straordinarie. Vabbè, questo pozzo di luce rende unica la cosa, no? Questa è quasi una casa galleggiante, può sembrare quasi una chiatta, no? Però raccoglie un po' l'idea di vivere dentro un buscio e leggo le strutture, le ordinate, no? È in acciaio ovviamente questa barca e quindi ti dà il senso di vivere in questo volume che è per forza di cose una barca. Poi questi elementi di rottura di domesticità la rendono così, no? Intima, no? Il camino, la libreria. Io dico sempre, non è una casa se non c'è la libreria. Cioè, chi non ha un libro in casa, non lo so. Cioè, voglio dire, la cultura, leggeremo qualcosa, si legge sempre meno purtroppo, però il libro io continuo a comprarlo, il libro stampato, perché oltre a essere un pensiero è un oggetto. E io, ovviamente, essendo personato d'arte e d'architettura, non posso, non comprarlo io, non me lo posso scaricare. Puoi scaricarti un saggio, puoi scaricarti un testo tecnico, ma il libro, il sapore di leggere attraverso le pagine e odorare proprio l'odore della stampa è una cosa che non può esaurirsi. Quindi questo ha tutti gli elementi per essere una casa, però è dichiarato che è dentro un guscio navale, quindi è questo compromesso meraviglioso. Sentimi, qui siamo in barca, siamo in regata, siamo tornati in barca. Ho scelto questa foto per chiederti il valore del team per te. Ah, tantissimo, ho imparato tantissimo. Allora, anche qui mi lanci sempre degli argomenti molto importanti, impegnativi. La barca è una scuola di insegnamento, di vita e anche di team, quindi di lavoro, cioè impara a stare con le persone. Io nel mio mestiere ritengo che non sono più l'architeto col camice che fa da solo, non faccio tutto io, non faccio il progetto, vado in cantiere, faccio i miei esecutivi con la matita, è finito. Siamo in un'epoca in cui credo che sempre di più il valore del team sia importante e credo che il nostro mestiere, è chiaro che c'è sempre un leader che decide, che coordina, che mette insieme. Quindi il lavoro dell'architettura è il lavoro che si fa in squadra. Ecco, qui mi sembra giusto citare il tuo socio di studio. Certo. Anche qui, partendo sempre dall'acqua, il mio socio l'ho conosciuto attraverso un amico in comune che era Claudio Caramel, che mi ha insegnato a navigare a vela, un po'. Anche il fratello Roberto, sono due, anche il padre, un grande architetto padovano, Sergio Palmi, era un grande navigatore, oltre che un grande architetto. E così io, già appassionato dell'acqua, del mare, ma anche a motore, perché io non disdegno anche della barca a motore, è un mezzo diverso. Ho incontrato Massimo che anche lui ha avuto, diciamo, esperienze così di velista, ha navigato parecchio e ci siamo incontrati, poi abbiamo realizzato lo studio insieme dal 90 e poi lui ha smesso di navigare. Adesso vorrebbe tornare in barca, però penso che tornerà sulla barca a motore, è un po' più pigro di me. Ado qui c'è un libro che racconta un po' tutta la vostra storia insieme, dello studio Parisotto Formenton, ma dentro ci sono le foto di una barca a motore, un San Lorenzo. Che relazione hai con la nautica a motore? Allora, la barca a motore comunque, secondo me, ha delle caratteristiche, cioè è comunque un'architettura in movimento. E la barca a casa, ne abbiamo già parlato insieme, io non la concepisco. Secondo me, io voglio vivere la barca anche se a motore, che è sul mare e naviga. Prenderà qualche onda anche sta barca, rimane in porto se c'è la tempesta, d'accordo, no? Mentre le barche a vela sono un po' più sicure, viaggiano e navigano lo stesso. Però comunque le caratteristiche ergonomiche della marinità per me vanno trasportate a una barca a motore ancora oggi. Poi è chiaro che parliamo di dimensioni, se stiamo parlando di un 40 piedi a motore, deve essere molto ergonomico perché gli spazi sono minimi, se cominciamo a parlare di barche di 40 metri, 60 metri, diventano quasi delle case, per non parlare delle grandi navi che diventano veramente dei palazzi che navigano. Però riportare all'interno di queste barche anche a motore la marinità e l'ergonomia per me ti lascia il sapore e la sensazione di vivere un ambiente che naviga quindi sul mare. Io non voglio riportare l'appartamento di Monte Carlo sulla barca, io voglio svegliarmi la mattina nella cabina della barca a motore e dire sono al mare. Non voglio avere dubbi, proprio i primi secondi che apro gli occhi, no? Senti, qui c'è un altro bel librone, Passion for Design, ed è la storia di German Fresse. Ecco, ovviamente per non violisti German Fresse è un idolo, però la domanda è qual è il valore della firma in architettura e nella nautica? Ha un valore la firma anche se negli ultimi anni si è un po' distorsi sia in architettura che in nautica. Indubbiamente Fresse ha un background che è indiscutibile. Io ho tra l'altro la prima barca, anche qui c'è un link e queste domande a sorpresa, però c'è sempre, sembra quasi che mi hai studiato. La mia prima barca che comprai usata era un Frère ed era un First 435 Frère degli anni 80. Barca veramente marina, straordinaria. Quando entravi in quella barca con questi legni, intanto era sicura la navigazione. Barche moderne sono più veloci, ma se prendi mare devi saperlo affrontare. Mentre mi ricordo che il Frère con queste carene profonde affrontavi il mare e dici, si affronta. Cambiato barca, dopo cambiato design, queste linee di oggi non ti consentono di fare quello che facevi prima. Quindi la carena di Frère è una grande carena. Frère secondo me ha firmato delle barche meravigliose e ha una storia alle spalle straordinaria. La sedia, il Moloch dell'architetto, è l'oggetto su cui passiamo più tempo e ogni architetto prova a disegnare una sedia, fa questa sfida. Cos'è la sedia? Beh, la sedia è uno degli oggetti di design spontaneo migliori. Anche in architettura, no? Ci accorgiamo che le architetture migliori sono le architetture spontanee, che sono nate per le funzioni. La sedia è stare in ergonomia per poter lavorare, pranzare, conversare come adesso, ed è l'oggetto apparentemente più semplice e in realtà il più complesso. Le sedie più semplici sono state disegnate non da architetti designer. Poi sono arrivati gli architetti che hanno ovviamente la belleità di fare la sedia, ma non puoi inventarti una sedia nuova. C'è chi ci prova, ma poi la miglior sedia è quella che è nata in modo spontaneo. Ecco, qui abbiamo delle architetture. Per concludere, qui è forse anche qui il taglio di luce, ma visto dal fuori, no? La decisione di certe forme. Sì, sempre facciamo sempre i conti con la luce. Con la luce è il paesaggio. Allora, come ci caliamo in architettura? La prima cosa che faccio, visito il sito. E per me è come pensare a una barca e so cosa è il mare, no? Vado a vedere il sito, mi metto lì, controllo dove l'orientamento controllo soprattutto la vista, no? Perché l'architettura è statica in questo caso. Quindi se mi vado a calarmi in un luogo, cerco di catturare, sia che siano città o che siano fuori città, come in questi casi, cerco di catturare quale sono le viste del paesaggio, oltre agli orientamenti, alla luce, dove sale, dove sorge, dove tramonta. Proprio per cercare di tagliare, perché le aperture in architettura per me sono il tentativo di incorniciare il paesaggio. E quindi di dare una relazione degli interni con gli esterni, perché questa, secondo me, è l'architettura. L'architettura non è scultura, è funzione. E io mi leggo sempre a una frase di Miss Van der Rohe che la funzione è uguale a bellezza, ed è la verità. Cioè, se un prodotto funziona, sia in nautica che in architettura, è bellezza. Senti, questa è una degna conclusione. Torniamo in mare, ma sogni di giro del mondo, sogni di perderti, non ne hai? Non lo sogno più. Ti dico la verità. Allora, io ho un amico che ho conosciuto quando comprai la prima barca, un amico straordinario, Paolo Santa Giuliana, dove mi disse sempre, da prima giorno che lo conobbi, mi disse, io dovevo comprare la barca e sono a giro del mondo. Non l'ho ancora fatto e sono 12 anni. Ha un'età che dico, lo farà, però io dico che dopo una certa esperienza si fa prima. Allora io volevo fare una traversata atlantica, ma il giro del mondo no, lo lascio fare ad un altro. A me piace. La barca, per goderla in giornata, star fuori. Sto anche in mare 30 giorni, ma mi dai un obiettivo, chiaramente. Facciamo una traversata atlantica, andiamo di là. Non ho mai avuto l'opportunità di farla. Ho fatto l'Atlantico, ma arrivando in aereo è un po' più comodo. Ho navigato parecchio in Atlantico, ma senza fare le traversate. No, io credo che oggi non la farei più, il giro del mondo. Mi piace rimanere a terra. Mi piace, no, il compromesso, salire a bordo e vedere la terra. Cioè la barca mi piace per scoprire, però fare il nomade del mare non mi piace più. Mi piace avere un obiettivo, arrivare in un luogo nuovo, scendere a terra, conoscere il luogo, il porto, la gente, andare nel bar del porto a bere il caffè, la birra, la sera, il tramonto, e scoprire le persone del luogo. Questo è scoprire, viaggiare. Io vedo così un po' la barca. Navigare per scoprire. Quindi il giro del mondo è impegnativo, io comincio ad avere un'età, magari può sembrare anche un po' giovane, che sinceramente non credo che lo farò. Non è il mio obiettivo, non è il mio obiettivo più. Grazie.